Ciao a tutti, sono Francesco Morosino e questo è The Icons, la rubrica sulle foto più iconiche della storia della fotografia. Oggi vi parlo di un fotografo molto molto interessante che fa parte dell'agenzia Magnum, una delle agenzie fotografiche più importanti del mondo. Questo fotografo si chiama Chris Steele Perkins. È un fotografo inglese che ha lavorato in diversi ambiti, ha lavorato in diverse parti del mondo, lavorando molto sul reportage in modi molto differenti tra di loro e questo lo rende molto interessante dal mio punto di vista. Mi piace molto quando ci sono questi fotografi che cambiano modo di fotografare nel corso degli anni, rimanendo però sempre fedeli a se stessi, a quello che comunque gli piace fotografare, i temi che poi sono portanti nel proprio lavoro. Quindi vedremo alcune foto di questo autore, vedremo come stanno diverse da di loro, c'è una foto in bianco e nero, foto a colori, foto che hanno stili un po' diversi. Vi invito come sempre poi a andare sul sito dell'agenzia Magnum a guardare tutti gli altri lavori perché sono veramente interessanti. Ma cominciamo così vi faccio vedere meglio di cosa si tratta. La prima foto che ho scelto è quella un po' con cui io mi sono innamorato di questo fotografo. Più che una foto in realtà è un provino a contatto. Quindi cos'è un provino a contatto? Un provino a contatto è un positivo di un negativo. Ci fa vedere tutti quanti i frame che sono presenti su quel negativo per poterci poi poter scegliere, diciamo. Quindi prendo il mio rullino, lo appoggio su un foglio di carta sensibile, lo espongo la luce e poi sviluppo come si sviluppa normalmente in camera oscura e quindi riesco a vedere poi tutti quanti i frame che fanno parte di quel rullino e posso scegliere. Di solito si segnano con una penna rossa quelli che sono i negativi poi da stampare grandi, quindi quelli che sono da salvare di quel rullino. E in questo caso questo fotografo ha scelto due foto. Due foto di questo progetto che lui stava svolgendo sul Monte Fuji. Si è ispirato a Okusai, al famoso progetto di Okusai, le 36 vedute del Monte Fuji e si è ispirato quindi a queste incisioni giapponesi per creare un progetto sul Monte Fuji, quindi raccontare il Monte Fuji oggi. E qui vedete quindi due foto che sono state segnalate. La prima è una foto più classica che fa parte, diciamo, del senso del suo lavoro, quindi comunque far vedere questo Monte Fuji che spunta, che comunque sta lì, che domina un po' tutto il mondo circostante, quindi far vedere un po' la città. E poi c'è un'altra molto particolare alla fine che ha dei colori molto strani. Qual è la storia di tra queste due foto? Intanto vi faccio vedere il più grande della prima, così capite meglio di cosa si tratta. Quindi vedete appunto il Monte Fuji con questa stazione di servizio è la scia delle macchine che passano veloci, quindi una foto fotografata con dei tempi molto lunghi. Vedete, è una classica foto di paesaggio urbano composta molto bene, tutto molto equilibrato e fa proprio vedere questo contrasto tra questa montagna bellissima con la neve e questa invece questo ambiente così urbano più industriale, più classico dei nostri tempi. Questa è una foto comunque del 1999. Invece l'altra foto, che adesso vi faccio vedere anche questa grande, come vedete è molto diversa, molto diversa dall'altra. È una foto molto bizzarra, a parte ha dei colori stranissimi, poi ha queste scie rosse molto forti e è diversa dalle altre fotografie. È quello che potrebbe essere considerato un errore, perché lui ha esposto questa foto con dei tempi molto lunghi, queste luci, che erano le luci di alcuni lavori in corso, erano le luci lampengianti che hanno creato questi strani colori abbinati poi a questo verde nel cielo che è stato creato dalle luci della città. E quindi questo mix di colori strani, di luci artificiali, è andato un po', come dire, a alterare il negativo e ha creato questa immagine veramente molto molto bizzarra. Quindi un altro fotografo avrebbe potuto dire no, questa non va bene, non è uguale alle altre foto del mio progetto, non c'entra niente, è un errore, la butto via, non la scelgo. Ma invece lui ha riconosciuto il potenziale di questa foto, della sua stranezza, ma anche della sua bellezza. Tant'è che questa foto poi è diventata la copertina del libro che raccoglie tutte le foto del Monte Fuji che lui ha scattato. Quindi è stato veramente coraggioso a prenderla e a trasformarla in una foto veramente iconica. E così è stata consegnata alla storia, quello che poteva essere per alcuni un errore è diventata una foto veramente molto importante. E questo secondo me è una cosa veramente veramente interessante di questo fotografo. Vediamo poi un'altra fotografia. Questa potrebbe sembrare un provino a contatto, ma non lo è, perché invece si tratta di un ospedale, un ospedale psichiatrico, una clinica psichiatrica. Lui stava facendo un lavoro fotografico sul Pakistan, quindi raccontando un filantropo, di cui non mi ricordo il nome, ma lo trovate nelle note, che aveva creato questo ospedale. E quindi ha visto poi, passando attraverso questo cortile, queste finestre che proprio si affacciavano sul cortile interno dove c'erano i vari ospiti, diciamo, e la struttura che stavano passeggiando, è rimasto impressionato, perché comunque in ognuna di queste finestrelle c'è un momento di vita. E quindi ha creato questa immagine molto complicata da realizzare, quindi molto complicato trovare la composizione giusta per poter fare che funzionasse bene, ma lui ci è riuscito. Quindi in ogni finestrella che voi vedete c'è un momento di vita, c'è una persona, c'è un gesto, c'è qualcosa che sta accadendo. E questo rende questa foto veramente straordinaria, cioè più tu la guardi, più tu la osservi e più scopri nuove cose, più vedi altre cose che vuoi osservare e vorresti vedere di più, vorresti vedere altre finestrelle, altre storie, altre cose che accadono. È veramente un'immagine molto molto bella e molto interessante anche questa qui. Andando a una foto un po' più vecchia, diciamo, delle sue, ma comunque abbastanza recente, andiamo nel 1985 con questa immagine molto bizzarra della conferenza del Partito Conservatore in cui vediamo Margaret Thatcher. Margaret Thatcher è una versione diversa dal solito. Margaret Thatcher sorridente, luminosa, illuminata da questa flasciata. È incredibile poi la faccia di questo, di quest'uomo sulla sinistra, così proprio che stringe i denti, fa questa faccia un po' sconvolta, chissà, magari non si aspettava di essere fotografato così al volo, non si aspettava che il fotografico si avvicinasse tanto a Margaret Thatcher, insomma, è veramente molto divertente. Così come sono divertenti poi anche le altre persone comunque nella scena. Quindi è una foto proprio rubata, però appunto lui comunque era lì, ma è in veste ufficiale, quindi si sapeva che era lì per fotografare. Però è veramente molto molto divertente come immagine, perché la Thatcher sembra quasi una persona normale qui, e sorride a differenza di molte altre foto in cui lei è molto seria, molto composta, così molto seriosa appunto. E quindi è una foto comunque veramente divertente, che secondo me è un po' una foto da paparazzo, però è una paparazzata, però fatta in una maniera molto stilosa, perché comunque stiamo parlando di un evento ufficiale, di un politico, insomma, è molto interessante come immagine. E lui ha fatto altre foto un po' di questo genere in quel periodo, anche alla vita inglese, alcuni rituali, quindi anche questa parte qui del suo lavoro è molto interessante. Vediamo un'ultima immagine, che invece fa parte di un lavoro molto recente. E questo lavoro lui racconta le famiglie inglesi, i nuovi inglesi, quindi le famiglie multiculturali. E l'ho trovato molto molto bello, molto interessante, sia per la grande complessità di famiglie che lui è riuscito a fotografare, quindi veramente c'è una vasta gamma di diverse esperienze, sia per le bellissime composizioni di questi ritratti di famiglia che lui ha fotografato. In questo caso vediamo una famiglia dell'Iraq siriana, fotografata a Wembley, a Londra, ed è molto bello come lui ha disposto le persone all'interno di questa immagine. Quindi vediamo sulla destra questo padre di famiglia con questo cappotto sulle spalle, le mani congiunte così un po' a tre quarti, poi questa ragazza molto fashion, con quest'abito che sembra che sta andando al prom scolastico, un'altra ragazza al pianoforte, la mamma sul divano, e questo ragazzino in primo piano, così molto yeah, sul divano, che guarda un'altra parte, è l'unico che non guarda, un po' forse per fare il figo, un po' perché i ragazzini, tenerli fermi a fare una foto di famiglia, è un'impresa titanica, e quindi è molto bella tutto l'incastro di persone, e la diversa profondità che lui ha creato all'interno di questa immagine. Non è facile fare una foto di gruppo, in modo che funzioni, in modo che sia interessante, non ci sia semplicemente una schiera di persone, una fianco all'altra, e secondo me lui in questa foto ci è riuscito molto bene, è riuscito a raccontare comunque questa famiglia, anche con i dettagli che vediamo nella stanza, e in realtà tutto quanto il progetto è veramente, veramente molto interessante, e mi invito ad andarlo a guardare. Ecco, avete visto un po' di foto di questo fotografo, è stato molto difficile per me sceglierle, perché mi piacciono tutte le sue immagini, veramente ce ne sono tante e molto interessanti, quindi vi invito ad andare proprio sul sito dell'agenzia Magnum, a vederne altre. Se invece vi interessa il discorso dei provini a contatto, volete approfondire proprio la scelta delle foto, che è un tema molto molto interessante, c'è questo libro che vi consiglio, è un librone abbastanza grosso, si chiama proprio Magnum, la scelta delle foto, e trovate tutte quante le immagini più famose, la Magnum, con i provini a contatto, e come sono state realizzate. E trovate sia il lavoro del Montefugi, quindi trovate sia il provino a contatto del Montefugi, Perkins, quindi è molto interessante andarle a vedere, scoprire da un sacco di autori, insomma è un libro a cui lo tengo molto, perché è veramente veramente bellissimo. Vi ringrazio di essere stati qui, spero che vi sia piaciuto questo incontro con questo fotografo, e vi aspetto alla prossima settimana, per un altro fotografo, un'altra fotografa, e altre foto iconiche qui a The Icons. Grazie e a presto. Ciao!